Salve, sono Dario Dentale, Angel Investor di Accelera Hub, e oggi vi parlo del futuro dei concessionari auto, un settore in rapida evoluzione e ricco di sfide tecniche e strategiche. L'Automotive Dealer Day 2024 ha evidenziato come l'innovazione tecnologica sia cruciale per il futuro del comparto. L'adozione di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale e l'automazione dei processi RPA sta migliorando l'efficienza operativa e l'esperienza del cliente, rendendo i processi più fluidi e personalizzati. Queste tecnologie permettono una gestione più efficiente delle risorse e una riduzione dei costi operativi, aumentando la competitività delle concessionarie. Offrire servizi personalizzati e connessi alla vita quotidiana dei clienti è fondamentale per creare valore aggiunto. Ciò include l'implementazione di piattaforme digitali che consentano una comunicazione continua e personalizzata, nonché l'uso di big data per anticipare le esigenze dei clienti e fornire soluzioni su misura. Negli ultimi 15 anni, si è registrata una drastica riduzione del numero di concessionari, una tendenza che continuerà. Questa razionalizzazione è necessaria per adattarsi alle nuove dinamiche di mercato e richiede una gestione ottimizzata delle risorse. Le concessionarie devono concentrarsi sull'efficienza, riducendo i costi fissi e migliorando la gestione dell'inventario tramite tecnologie di gestione avanzata. Inoltre, l'implementazione di soluzioni digitali avanzate permette di offrire un'esperienza cliente senza soluzione di continuità. In conclusione, il futuro dei concessionari auto sarà dominato da innovazione, digitalizzazione e adattamento alle nuove esigenze dei consumatori e del mercato globale. Affrontare queste sfide richiederà un approccio strategico e l'adozione di soluzioni tecnologiche all'avanguardia.